Davanti Zaza ricorre tutti, forse bisogna ritrovare ancora il miglior Belotti Sì bisogna ritrovare il miglior Belotti ma soprattutto bisogna trovare anche i migliori spiegatori per Belotti Anche cercare, perché lui detta sempre la profondità, cerca sempre di smarcarsi in verticale puntando verso la porta Però non gli arriva difficilmente il pallone Abbiamo visto il pallone del Gallo Belotti al sesto, il gol di Rincon al ventesimo Il gol che sblocca la situazione Dopo l'inserimento centrale sul quale però la difesa del Frosinone ha lasciato un po' troppo spazio Frosinone che prova a reagire con questo tentativo di Molinaro E bravo Baselli a ripiegare e a mettere il calcio d'angolo Sì bravissimo, ha avuto fatto una scelta di tempo, rientrando, ha visto che c'era un giocatore libero Anticipato Baselli all'ultimo, Berengher col destro, Rete, splendido pallone sotto l'incrocio Niente da fare per Sportiello E ancora il...